Ciao a tutti ragazze e ragazze, benvenuti in questo nuovo video Siamo di nuovo su Fortnite Jenny Gamer Sì Raga, non ci metta di nuovo come l'altra volta Stai l'elevano Allora, staccato Gamer 89 Sì Buttatine Poi, staccato Del D grande L D D L Del Lungo No, sono atterrato qui sopra Io se, no, devo avere la faccia tipo della maglietta di Fortnite Ho qui un po' da me Stai, vieni E' tattico bianco Scusa ragazzi, non vi parlo a voi Tieni No, ma è tolto, è 61-20 E' bianco 20 bianco, eh, c'ho tolto Non ti diene 70 HP Oh, togli la costruzione e costruisci No, 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 no Sparò per lui che ce la fa No Genno Scrivetevi Lasciate un like E commentate La dico, eh Che sennò Verrà a casa vostra Spaccarò le ditelle Spaccarò le ditelle Sì No, no, quell'altro E' quell'altro E' quell'altro che tipo Faccio Cioè, devo avere la skin Della Cioè, devo avere Iva Deve avere Tipo Come Tipo Iscritto Dovrei avere tipo La maglietta con Con La maglietta di Fortnite, eh La maglietta di Fortnite Eh, quell'altro è un altro Cioè, quell'altro è un altro account Mi sono fatto tre account Oh, devo avere La maglietta La maglietta di Fortnite Paranoia con la mia faccia Adesso 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 Devo avere Tipo Come Tipo La foto Mia Con La maglietta No, no Con la maglietta di Fortnite però non c'è la mia faccia e vedi allora vedi tutti e tre i canali la vedi una maglietta di tipo di Fortnite allora è quell'altro vedi tutti vedi devo giocare a Fortnite corso bro allora non fai niente non c'è corso mettere bene dopo sto tele wow già di 5 ore sto video raga visto che ho già di 5 ore sto video esagerato ciao